Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla Benvenuti in un video su Fortnite Oggi ragazzi l'avete detto dal titolo perché sicuro l'ho scritto 22 kill in solo Pertanto così non abbiamo superato il mio record Che appunto di 22 kill Stavo per fare 23 ma Porca miseria Guardate il video fino alla fine perché abbiamo anche visto Raga, il lago a sponda del saccheggio dove si è sciolto il cubo È un casino, è stato tutto fighissimo Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Poi se volete seguitemi su Instagram Link in descrizione, basta cercare su Instagram FortuGamer mi trovate sicuramente E io vi lascio a sto grandissimo game Ok ragazzi ci siamo, siamo a sponda del saccheggio E oggi c'è questo casino Quindi, ok Va bene, apri un po' grazie Oh cavolo, oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo santo, sto tizio ha preso una doppietta, aiuto No, 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 non mi devo blocca Allora ragazzi calmi tutti perché qua se prendi un'arma Hai vinto, se non la prendi sei morto Un M4, ok, ok Tra lasciando che c'è un tizio in giro con una doppietta Ma proprio così, easy Ah infatti, ah infatti Mi pare fosse tua No, tu non hai una doppietta Allora che diavolo aveva una doppietta C'è un tizio con una doppietta in giro e non so dov'è Guarda che bella questa cosa È davvero molto rincuorante Sì ragazzi c'è un casino di gente Ma perché giustamente ci sta Sto Cristo santo di coso qua Ma che è successo? Che mi contatta un mio amico Fa guarda si è sciolto tipo il cubone L'acqua di sponde del saccheggio Non ce l'ho capito più nulla Vabbè, ok No, no, no Guarda che l'arma Che cosa? Concentrazione ragazzi Concentrazione Ricarica, 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 ricarica Ok, avvolo Ma che casino Ma guardate un po' Questa è la modalità singoli volanti Quindi tutti quanti giustamente appena scesi Riaprono il po' tuttissimo deltaplano E non si capisce nulla Cioè ma un tiro al bersaglio Scusatemi eh Cioè ma cosa state facendo? Posso capire? Che casino Aspettate che Devo cercare di via qualcosa Ok, dai Mamma mia raga Ma che casino è Non c'ho le munizioni quasi di nulla Vabbiamo un po' ragazzi Dai, dai Ok Ok Proietti di fucile a pompa Non li ha nessuno Ah Ok Due Si viene una trappola Qua raga Finchè non si chiude la safe La gente qua rimane Ma sicuro Io nella mischia Lì in mezzo Non mi butto Perché è un suicidio Raga Stanno male proprio Non lo farò mai Mi subisco i danni da caduta Io credo di no Però non ne sono sicuro Vorrei evitare A parte che raga Sto a farmi kill Proprio come uno schifo Vabbè E raga Figo Comunque figo Io ho voluto portare comunque Una cosa un po' più seria Senza fare il deficit Qua in mezzo Ma wow 12 kill 26 di noi Ok Si è liberata la zona Comunque raga Non c'è più nessuno Ci possiamo andare finalmente Aglie No 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 Devo entrare Devo entrare La safe si sta aiutando Tra l'altro Sul pinnacolo E quella piccola Parte di sponde Che praticamente Diverrà la zona In cui si Si butteranno tutti Io ne sono più che certo Che mostra La trazione Lì figa Quindi ok E vediamo Dai Quello sta a costruire Però non ho capito Se sta a fight Cioè Boh Sono un po' confuso Sincero Quelli lontano Stanno fightando Questo tizio Che ho sotto No Sto saltellando Destra e sinistra C'è una doppietta Devo fare in fretta Perché stanno fightando Due tizio Possiamo fare 16 kill 16 kill E siamo in 15 Tra poco 14 credo Però ci siamo capiti E siamo in 15 Sì Grazie. Dai, a Pinacoli ci deve stare forza qualcuno. È dentro la safe. Io qua non devo curarmi. Sapete perché? Io posso superare il mio record di kill, raga. Che è 22. Posso fare 23. Però me li devo fare tutti. Ho capito dov'è. C'è un semiautomatico. Mi sto muovendo troppo. Troppo, la rosa è troppo... No, vabbè, è una stronzata. Sto a fare una stronzata perché ho la rosa troppo ampia. Sto fettando con un tizio con un fucile di precisione quando io ho un fottuto scar silenziato. No, ok, mi sono fottuto le 23 kill perché ho perso tempo con questo, vabbè. No, raga, ma questo... Cioè, dico, 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 ho perso tempo per... Ci siamo capiti, no? Allora, mo' mi mancano due tizi. Dico uno sotto la posizione. Sta là. Ok. Spari? Devo uscire perché questo si è messo delle trappole. È finita. Dove è andato? Dipende. Ho una domanda, zitti. Sei curato? Se sì, allora sei un problema. Se no, una bomba. Colpito. Metti le trappole. Let's fucking go, babe. 22 kill in solo. Per una kill, raga. Il record per una kill. Porca miseria. Un peccato. Quindi, ragazzi, il video oggi si conclude qui. Davvero un peccato per le 23 kill perché potevamo farlo solo con perso tempo a sparare quel tizio lì che mi stava a sparare con il fucile di precisione sia automatico. Peccato, ma wow, che grande partita. Sono soddisfattissimo. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Poi, se potete, seguirmi su Instagram. Link in descrizione. Basta cercare su Instagram. Porto di Gamer mi trovate sicuramente. E noi, guys, ci becchiamo alla prossima. Ciao.